Vito, lei è di Vicenza? Abito a Vicenza e da parecchi anni viene qui a questo raduno. Da più di venti che vengo a questo raduno. Cosa c'è di particolarmente gradevole qui? Questo è il raduno Guzzi, più grande, più bello che c'è, forse di quello ufficiale Guzzi, questo è quello migliore di tutti. Per la zona, per che motivo? Per la zona, ma per i guzisti che ci sono, ormai ci conosciamo tutti, per le persone che lo organizzano e per tutto quanto il contesto. Ci troviamo qui, arriva gente da tutte le parti d'Europa. Ecco, e lei vuol dirci la sua prima moto quando l'ha acquistata? Con che moto è qui? Io sono qui con una Stelvio Sidecar. La mia prima Guzzi è un California del 97 che ho ancora. Quindi che vengo al raduno qua è dal 97. Partecipa anche ad altri raduni? Sì, sì, sì. Quasi tutti i guzzi oppure quelli indifendenti, anche più piccoli di questi qua, dove ci si può trovare, ci si incontra e si chiacchiera tra di noi. Con la moto naturalmente non partecipa solo ai raduni, ma farà tanti viaggi. Viaggi dappertutto, sì, sì. Si gira ovunque, come tutti gli altri. Benissimo. E qui con la tenda? Sì, 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 sempre in tenda. La tenda ci permette di bere la birra, se no non puoi guidare. Va bene, buona continuazione. Grazie, arrivederci.